Luca Pardo in Sparaciuto Messina 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 è la prima ripresa vai con la 1 vai subito con la 3 la 3 ce l'hai nelle corde non fa andare dietro vai stop vai stop la 1 la 1 stop vai vai Giacomo vai Nano vai Luca vai col diretto come si muove che devi fare la 2 la 2 bravo 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 stop mi sale in ginocca vai vai Nano vai Giacomo vai con la 2 portati quelli 2 inizia tu vai Giacomo vai Giacomo vai Giacomo vai Giacomo la 2 la 2 subito passi bravo stop fai 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 subito con la 2 tu ti muove lui non ti muove lui quello che devi fare quello che immagina fa dire di senso facebook divertente mi muove tutti esco sì guarda fai vai 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 non devi viene dice figli Lascia! Forza! Previa! Voi col muovone! No! Luca, dove sono i contagi? Fai! Fai! Non le mangi! Mori! E' Luca! Tu più del diretto! Bum! No! Fai! Devi staccarsi! Devi staccarsi! Fai il mio comore! Bravo! No! No! Vai! Fai! Oh! Tera via! La prima ripresa! Grazie! 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 Ciao! Grazie! Ciao! bravo continua col diretto scendi di nuovo scendi col diretto bravo 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 e il combattimento termina prima del limite a un minuto e quattro secondi della seconda ripresa Luca Quentò un applauso a Luca Quentò del team Sparagiro di Messina e un applauso anche al suo avversario Jacopo Paterni, Roffa e Gwen e Vittles Luca Jacopo Paterni